E poi perché renderlo obbligatoria? Io vado ai pazzi, vado, guarda questa cosa mi fa impazzire. Ma scusami, ci sono più persone interessate al doggie bag secondo te o alle leggi ad personam sulla giustizia? A chi se ne frega. Senti, a proposito di giustizia, mi è venuto a trovare come al solito il signor Lo Scicero. Buonasera, applausi al signor Lo Scicero. Buonasera, buonasera. Signor Gianluca Lo Scicero che tratta un grande affetto per Parezzo perché lui lo considera un fascista, un criminale. Ma quello schifoso, criminale, schifoso. Che cazzo fa a Milano? Perché è andato? No, ascolta Davide, niente, ho dovuto accompagnare. Che hai fatto? Esatto, bravo, continua a offendere, ma devi palesarti perché è facile offendere da Roma. Dai, Gianluca, dai, dimmi che ha fatto. No, niente, sono andato a accompagnare un mio amico che aveva un colloquio col fratello qui a Bollate. In carcere? A Bollate, sì, in carcere di Bollate. Perché è un criminale, frequenta solo criminali, solo criminali. Ma sono redento, l'hai detto anche tu, sono riabilitato come la famiglia Marchi, no? L'hai ospitato anche in trasmissione lì all'aria che tira lì. La famiglia Marchi, a differenza tua, hanno commesso dei crimini, ma meno gravi di quelle porcherie violente che hai fatto tu nella tua vita del caso. No, Davide, ogni volta che ti vedo penso all'oglistatore di Bonovic. Perché è una repulsione? Perché è di Padova? Per questo è una repulsione. No, mica perché è di Padova, perché è una merda. No, ma io ti voglio un bene dell'anima, io ti voglio, io provo un profondo affetto nei tuoi confronti. È una persona molto vera. Io voglio bene a te come un parente, cioè io ti voglio bene, veramente. Ma ancora tu andresti a fare le scazzotte allo stadio? Allo stadio è la mia vita, se non ho un altro ultra se morirò ultra. Se è ancora a fare i cazzotti allo stadio? Se capita, li faccio volentieri. Ma che vuol dire se capita? Uno non deve fare a cazzotti allo stadio? No, se capita, se vengo provocato come parente e mi offende, così... Cioè se uno ti dice stronti? ...viate facilmente, magari sai, dopo può scatrire... Cioè se uno ti dice allo stadio brutto stronzo, tu gli spari un pugno. Ad ogni azione comporta una reazione, può essere anche una reazione violenta. È una bestia, è una persona violenta. Come diceva Platone, la violenza è l'origine di tutte le cose. Non hai capito che nello stato di diritto... Io sono laureato, tu no. Tu sei una bestia. Ho fatto anche due esami storia e filosofia, dai. Tu sei una bestia. Nello stato di diritto, non hai capito niente però, perché lo stato di diritto è la trasformazione dalla condizione dell'animale alla condizione del contratto sociale. Ascoltami, io voglio tendere una mano al signor Davide Parenza. Ma io non do nessuna mano agli antisemiti razzisti schifosi. Siccome tu sei un oggettatore più di quello di Bonolis... Io ti auguro massima fortuna. Io ho attaccato, mi sono attaccato, fuori dalla porta, in mezzo, sai cos'è il mezzo? No, quella pergamena che viene attaccata. Non parlare di cose che non sai. Io lo tocco ogni volta per esorcizzare la tua presenza. No, le sono le conosco, le conosco, le conosco. Tu avresti fatto il saluto Romano ad Accalarenzia. Avresti fatto il saluto Romano ad Accalarenzia è stato tributato il giusto e doveroso omaggio a tre ragazzi, di cui due assassinati in maniera vigliacca e vile da un commando di lotta continua e uno dalle guardie. Non si sa se la lotta continua. No, non ti ho addentrata. Sono stati condannati in primo grado e poi assolti in appello. Vabbè, però posso dirti... Ho capito, ma questo conterrà pure. Scusami, però, a parte scherzi, anche gente di destra normale... Mi scrivono che lo Cicero l'ho arrestato almeno due volte. Mi scrivono alcuni amici. Ah, bene. Alcuni amici mi scrivono... Sei contento di questo? Dei vanagloriatti di ciò? Alcuni amici, di cui non posso... Di cui non posso... Sarà la polizia che ci... Alcuni amici mi scrivono... Hai capito il circonciso? L'ho arrestato almeno due volte. L'ha detto la baligua. Almeno, almeno... Almeno due volte. Amici, amici. Però posso dire una cosa, posso dire una cosa. Anche qua, tu hai un tatuaggio contro la polizia, non va bene questa roba qua. All Cops, Arra, Acab... Io qua ho vappo, violenza pubblico ufficiale, perché me l'ho condannato parecchie volte per questo tipo di reato, però vabbè... Ma non è bella come cosa. La polizia è una cosa da proteggere oggi in Italia. È una grande istituzione. Ma tu proteggila, io no. Ma è lo Stato. Ma non è lo Stato. Sì, ma proteggila. Adesso mi accusano ogni volta di ospitarti o altre persone, gente della polizia, mi accusano, dicono che non dovresti ospitare gente che attacca la polizia. Io invece ospito... No, ma che sei un criminale. Ma no, un criminale. È stato un criminale e non rinnega di essere stato un criminale. No, io sono riabilitato e redento, l'hai sempre detto anche tu... In Italia, in altri paesi sareste chiesto perché... Mi insegnavano che è stato destinatario... Cioè ho qua tutto il curriculum criminale che ovviamente mi viene mandato in tempo reale di questo signore. Vuoi che inizia io a parlare del tuo curriculum, Davide? No, beh, certo. Il mio non è un curriculum criminale. Ma anche Torono era un fascista, l'hai detto anche tu. È destinatario del primo DASPO... Sì, è vero, ma è stato capo della polizia più o meno. Sì, è stato questore a Cremona, sì. Esatto. Vabbè, allora non ho capito, non ho capito, quale sarebbe il curriculum? È stato destinatario del primo DASPO di cinque anni. Vero, verissimo, sì, sì. Avevo vent'anni. E tu ancora hai voglia di fare a botta allo stadio? Beh, sì, se capita... Incredibile. Fermi tutti perché ci ha portato un personaggio che però, devo dire, un personaggio eccezionale. Quando dici fermi tutti è per arrestarlo. Fermi tutti, arrestatelo. Questo dovresti fare. Allora, perché ci ha portato... Cioè tu dovresti chiamare la polizia e farlo portare fuori... Ci sairei tutto il giorno con la polizia. Ma tu che hai sempre avuto a cuore i detenuti, le carceri, hai lavorato anche in due palazzi... Sì, però tu non ti sei pentito, questa è la realtà, tu non ti sei... Ho pagato il mio debito con la giustizia, con lo Stato italiano, quindi cosa devo pentirmi? Hai detto che vai ancora allo stadio a fare a botte se capita. Ma vado allo stadio, vado a sostenere la mia squadra, io amo il Padova e quindi se capita può succedere. Allora, fermi tutti perché però ha detto posso venire oggi con un signore e mi ha detto signore si chiama, adesso vi dirò chi è fra poco, è stato protagonista di una storia di cui può parlare poco perché è in corso un processo. Però è un personaggio che è... Ecco, tanto per scherzare, non è che ha portato un pittore, non è che ha portato uno scrittore, ha portato un altro criminale come lui, ovvio. Guarda che io non ti consiglio di affondare... Ma sai che a me mi innervosiscono, a me è quello là, a me mi innervosisce anche solo la voce di questo stronzo. Lo sai perché ti innervosisce perché è di Padova, altri non ti innervosiscono, altri non ti innervosiscono. Fermi tutti perché io non ti consiglio di affondare il colpo sul signore che ho qui di fronte, che si chiama Walter, di nome. E poi te lo faccio... Fatti mandare la foto. Uno che non ha una millimetro di pelle senza un tatuaggio. Io non so se sia contento di questa cosa. Ma si può dire che... Ma non so, capire, si può dire che è un povero stronzo o non si può dire neanche questo? Dipende da quello che dice. Poi non è che gli puoi dire stronzo senza manca averlo sentito. Ma a prescindere se si accompagna a quell'altro animale è un povero stronzo. I coglioni vanno sempre in coppia, sono i due che vanno in coppia. Ma cosa vuoi che dica? Non è Umberto Eco, sono due stronzi. Fermi tutti, fermi. Adesso torniamo. Allora, io più volte ho detto che i rapper che hanno appoggiato Shiva, vi ricordate il caso Shiva, no? Il rapper che ha sparato a due signori, anche altri precedenti, eccetera, che si trova, credo, ha avuto un figlio, che si trova, credo, non so se ai domiciliari oppure nelle patrie galere, non capisco perché Shiva sia così elogiato, appoggiato da tutti, free Shiva, ha sparato a due signori che volevano forse picchiarlo, forse dargli una lezione, non lo so. Uno di questi due, che erano lì incappucciati, che lo inseguivano, si chiama Walter Pugliesi, e attualmente fa il buttafuori, ed è un, perché conosce lo Cicero? Perché anche lui pratica l'MMA. Perché sono due pregiudicati, perché tra criminali si frequentano, che cazzo di domande fai? Aspetta, aspetta. Dice, perché lo Cicero non conosce la famiglia di Umberto Eco? Perché è un pregiudicato del cazzo? Andrò via col direttore Tamburini. Allora, calma, calma, buonasera Pugliesi, innanzitutto. Pugliesi, Pugliesi, Pugliesi. Lei, Gianna, si è già innervosito per queste cose di Parenza, no? No, non mi toccano più di tanto questi insulti. Di che gliene frega lei, coglione? Già, zero. Di che gliene frega, abituato? Uno che dice coglione a una persona senza conoscerla... Eh. Ma secondo me, ho visto la foto, ho visto il currino, fa il buttafuori, perché me ne frega a me? Ho anche una palestra di arti marziali, quindi, insomma, non sono proprio un coglione. Perché non ha una libreria? Perché non ha una libreria? Sono persone come lei che mi affidano magari i propri figli a insegnargli le arti marziali, perché... No, a uno come lei non affiderei proprio nulla, guardi, neanche il barboncino. Ah, ecco, perché uno come lei poteva avere solo il barboncino, ecco. Allora, quanti tatuaggi ha lei, signor Pugliesi? Non lo so, ho smesso di contarli. Però tutto il corpo, praticamente. Un 70%, diciamo. Un 70%, non si è pentito di avere, per esempio, tutta la faccia coperta. Io non distingo più perché lei non sarebbe nemmeno brutto, secondo me, cioè, anche un bel ragazzetto, però è un po' tacchiato, non altissimo, diciamo, tanto per inquadrarlo, per chi non ci sta sentendo, non ci sta vedendo via YouTube, però la sua faccia è indistinguibile, ma l'ha fatto per quanto faceva, perché lei ha fatto il criminale per un periodo. Sì, io ho avuto le mie esperienze criminali, partendo dalla tenera età di, insomma, 15 anni, 14 anni. Cioè, che tipo di reati? Il parente non si stupisce di questo? Insomma, a 14 anni, quando non hai la mamma e il papà che ti danno i soldini per comprarti le cose, sai, fai i primi furti. Vabbè, non è che chi ha, non ha il padre, ne la madre, deve per forza rubare. No, però, insomma, è una motivazione che se frequenti certe situazioni dove non hai valide alternative, tu vuoi quello che hanno gli altri ragazzi, non te lo comprano mamma e papà, te lo prendi in un altro mondo. È una storia di degrado, poverino. Ma ti sei pentito di quello che hai fatto? Che hai fatto? Rapine? Le hai fatte? Sì, ho fatto qualche rapina, insomma. Ho fatto anche due anni di comunità, dai 15 ai 17. Eri un giovane criminale, un giovanissimo criminale. Quante condanne hai definitive? Adesso ho quasi tre anni di definitivo. Ma di che reati? Sono reati per droga, uno anche per armi. Armi, possesso di armi. Ti piacevano le armi a un certo punto? Perché ti... Non mi piacevano le armi. Ho fatto del male delle persone. Sinceramente... Hai mai sparato a qualcuno? Non ho mai sparato a nessuno. Sicuramente ho fatto, nella mia vita ho fatto del male delle persone, che se lo meritavano sicuramente. Poi ho fatto anche una carriera sportiva, signor Parenzo, oltre che essere magari il delinquente. Aspetta, aspetta, fammi sentire. Insomma, il male fisico l'ho fatto anche dal punto di vista sportivo. L'ho fatto anche dal punto di vista sportivo, quindi, insomma... Quelli dello Stato. No, però, scusa, aspettate un attimo, adesso distinguiamo le cose. Dunque, tu hai fatto sicuramente... Azioni sbagliate, nella mia vita sì, le ho fatte. Sparate, no? Ma hai picchiato qualcuno, sì, più poco. Sì, a voglia, se lo meritavano. Se lo meritavano adesso, se lo meritavano. Non è una giungla. E invece in giro è una giungla, hai detto bene. In giro è una giungla. Ma in giro dove? In giro dove? Alla mattina vado alla sette, non c'è nessuna giungla. Ma la mattina tu devi uscire la sera, hai capito? Hai mai spacciato tu? Sì, sì, spacciavo. Dunque, reati di spacciola hai fatti? Purtroppo, sì. Purtroppo. Che spacciavi? Che tipo di droga spacciavi? Spacciavo fumo, l'erba. Coca? Cocaina. Amfetamine varie, eccetera. Ero, mai, eroina, non ho mai. No, eroina, mai. Eroina, ma... Io sono per la legalizzazione, figurati, a differenza di quell'altro pagliaccio che è lì vicino, lo cicero. No, 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 che palese di qui non si usa mai... Allora, qui in questa trasmissione qua c'è una regola, caro amico, mi sta anche simpatico il signor Balter Pugliesi, che è una regola molto semplice, che è questa. Si può usare il massimo della violenza verbale, ma nessuna violenza fisica. Io abborro la violenza fisica. Lei invece pensa che la violenza ogni tanto possa dirimere le questioni. Ancora è convinto o si è pentito di aver usato la violenza? Allora. Perché stava andando, per esempio, nel caso di Sciva, so che lei non ne può parlare perché c'è il processo, però stavate andando, incappucciati, lei un altro a picchiarlo, a regolare... A far spaventare, semplicemente. A spaventarlo? A spaventare, sì. Perché dove ti ha sparato? A altezza Duomo? Sul polpaccio. Ti ha sparato sul polpaccio? Sì. Cioè, ancora i segni sul polpaccio? Ci sono i segni, sì. I segni sul polpaccio. Cioè, il proiettile è entrato dal polpaccio? È entrato e uscito. Ma secondo te mirava alle gambe o mirava al corpo, diciamo? Non ho visto, ma mi ha preso sul polpaccio. Posso dire solo questo. Sì, però la tua idea qual è? che mi lasse, voleva ammazzarti o voleva solo ferirti? Ripeto, non posso dirlo. Non puoi dire, ma lo conosci? Ci sono dei video. Io e Shiba non ci siamo mai conosciuti. Ma come lo consideri? Io lo considero sicuramente un gesto che si poteva evitare, come io potevo evitare il mio gesto. Cioè, ti sei pentito di essere andato a fare questa spedizione punitiva? Era una spedizione punitiva? Volevamo farlo spaventare. Sicuramente, sì, mi sono pentito. Si sei pentito. Ok, come penso lui si sia pentito di aver sparato. Immagino di sì, che cazzo ne... Ma in questo momento è detenuto al carcere di San Vittore e so anche che gli è nato il bambino. Fai gli auguri. Non gli fai gli auguri perché è nato un figlio? Non c'è bisogno di queste ipocrisie. Sicuramente posso dirti che vista la situazione col figlio mi dispiace che... Cioè, dovrebbe essere... Lo vedresti meglio a casa, diciamo, ai domiciliari col figlio. Se gli concedono i domiciliari da uomo... Sei contento? Da uomo, sì. Sei contento? Sarei contento. Tu il carcere come l'hai vissuto? Io il carcere l'ho vissuto in maniera breve. Ho avuto un'esperienza di appena due mesi, quando avevo 21 anni. Ah, vabbè, dunque hai 10 anni, perché tu adesso hai 30 anni. Adesso ho 30 anni. Ma come capi con questa palestra, facendo l'MMA? Allora, io una volta uscito dal carcere mi sono dedicato completamente alla mia formazione sulle arti marziali miste, quindi ho vissuto di sacrifici chiuso in palestra. Cioè, hai rafforzato il tuo corpo. Mi puoi far vedere tutto il tuo corpo, se puoi? Mi devo alzare? No, no, basta che ti togli la maglietta. Così mi fai vedere tutto il tuo corpo intero, tutto... Ma che c'è un teschio? Ma che c'è un teschio? Un teschio? Un teschio, tatuaggi. Un mostro. Posso dirti una cosa? Il Kraken, c'è un Kraken tatuato, il mio soprannome. E che vuol dire? Era un mostro marino che affondava le navi. Una cosa pazzesca. Ma perché? Ma tu ti sei pentito di aver fatto tutti quei reati o no? I reati sì. I reati sì. I reati sì. Avrei potuto condurre una vita... Avrei potuto condurre una vita diversa. Non sono venuto qua a promuovere... Ma guarda che lo sto già facendo, non ti preoccupare. Grazie per il consiglio. Mi ha accompagnato solo a bollate. Sei sempre in tempo per voler bene alle persone, per non essere un violento. Non ho bisogno di voler bene... La prima cosa che devi fare è non accompagnarti con quell'altro imbecille che quando passa a Milano passa per andare in carcere. Gianluca è una grandissima persona. Però scusami, tu che tipo di... Hai fatto uso di droghe anche? Ho fatto uso, sì sì. Da quanto tempo non ti fai nulla? Dieci anni. Da dieci anni non tocchi niente? Manca una canna? Neanche una canna. Zero? Alcol sì. Alcol qualcosina sì. Cioè adesso, oggi fai il butta fuori, diciamo, tra le altre cose... Fai il butta fuori per arrotondare nel weekend. In settimana, adesso da questo novembre, ho aperto la mia palestra. Sì. E insomma vivo... Però la cosa che voglio chiederti dalle gente di scivola, tu prima lo conoscevi questo signore? No, no, no. Non lo conoscevo. Tu sei andato da là senza nemmeno conoscerlo? Io ho dato una mano a un amico che voleva fare questa azione. Voleva spaventarlo, dici tu. Fai un'azione per spaventare. Per spaventare. Possa avere i miei dubbi sul fatto che uno vada lì a spaventare una persona. Tu sei legittimato ad avere i tuoi dubbi. Cioè, ragazzi, a spaventarlo. Che vuol dire? Voi andate là probabilmente per picchiare vestiti tutti incappucciati e per non essere riconosciuti e poi alla fine vanno riconosciuti. Di che stiamo parlando? No, ci hanno riconosciuti gli inquirenti tramite le indagini. E te credo, quella è la polizia. Come considera la polizia te? Un organo dei tuoi nemici o di gente che assicura la nostra libertà? Ovviamente quando tu, nel senso io riconsidero che loro fanno il loro lavoro e tu un altro. Io mi sono trovato dall'altra parte per un episodio. Poi durante tutti i giorni, durante la mia vita io... Cioè, senza la polizia tu non potresti fare quello che fai senza le forze dell'ordine. Lo capisci? Le forze dell'ordine sono essenziali, brava gente, non sono dei picchiati. Alcuni sono brava gente. Ma come da tutte le parti? Ci sono pure quelli degli stronzi che sono dappertutto. Senti, ma se tu potessi tornare indietro qualche tatuaggio lo toglieresti o no? No. Piace alle donne o no questi tatuaggi? Sono la mia donna qui. Tu piacciono tutti questi tatuaggi? La mia donna, sì. Terribile. Tutti i tatuaggi sono terribili questi tatuaggi. Sono impiaccianti. No, ma per carità uno può piacere. Qual è l'unica parte libera che c'hai? Pure sull'uccello ce l'hai? No, quello no. Quello non ci piace, non c'è coraggio. Vabbè, ciao ragazzi, ciao a tutti. Fermi là, fermi là, fermi, fermi là. Grazie. 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 Grazie.